L'immagine di un po' di decollaggio. 34 minuti dopo il liftoff, il satellite si è sganciato a un'altitudine di 250 km e ha dispiegato con successo i suoi pannelli solari. Il suo primo segnale è stato quindi inviato alla stazione di terra di Malindi in Kenya, gestita dall'Agenzia Spaziale Italiana. Nei prossimi giorni il satellite raggiungerà la sua posizione operativa finale, l'orbita geostazionaria. Da qui, oltre a garantire per altri due decenni continuità alle previsioni meteorologiche, fornirà osservazioni cruciali per individuare precocemente il rapido sviluppo di tempeste estreme. Tutto ciò grazie a due strumenti innovativi. Sviluppato in Italia da Leonardo, il Lightning Imager sarà il primo modello europeo di acchiappa fulmine in grado di catturare ogni singolo evento di fulmini nel cielo, sia di giorno che di notte, monitorando continuamente circa l'80% del disco terrestre. Il Flexible Combined Imager sarà invece uno scanner globale, coprendo la Terra in soli 10 minuti. Esso fornirà informazioni multibanda sia meteorologiche sia ambientali per tutto il sistema terrestre, dalle nuvole al vapore acqueo, dagli oceani fino agli incendi locali. MTGI 1 è il primo dei sei componenti che formeranno la terza generazione Meteosat, missione frutto della partnership tra ESA ed Eumetsat, con il contributo delle industrie europee. Tra queste, l'italiana Telespazio fornisce servizi di lancio e in orbita. In piena operatività, MTGI 1 sarà affiancato da un satellite gemello, che fornirà però una copertura locale con un ciclo di ripetizione più rapido. Al loro fianco opererà anche un satellite MTGI Sounding, che fornirà profili verticali dettagliati della temperatura e dell'umidità atmosferica ad alta risoluzione spaziale. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS